Ma io non ho mai sentito una scemenza così gigantesca. Il caso più clamoroso di deviazioni delle forze di polizie lo abbiamo vissuto nel 2001 al G8 di Genova. Non ha pagato nessuno tra i massacratori della Diaz e di Bolzaneto. Anzi, sono stati tutti promossi e alla fine è andato tutto in prescrizione perché si è deviato in tutti i modi il corso delle indagini per fare in modo che coloro che avevano massacrato di botte della gente innocente la facesse franca. Quindi è esattamente il contrario. A denigrare le forze delle ordine oggi non c'è nessun nuovo terrorismo, nessun brigate rosse, nessun album di famiglia della sinistra. Figuriamoci se Conte e Eli Schlein sono fiancheggiatori del terrorismo, sono delle stupidaggini clamorose, ma lo sanno tutti, lo sa anche la Meloni che peraltro da ragazzina gli anni della contrapposizione dura nelle piazze li ha vissuti. Basta leggere la storia del movimento post fascista di cui lei, Marsilio e tutta la sua combricola facevano parte. Insomma, all'epoca le botte, i manganelli, le pistolettate erano all'ordine del giorno. Oggi non c'è assolutamente quel clima. Chi è che ha denigrato le forze dell'ordine? Quegli stessi esponenti, per fortuna pochi, delle forze dell'ordine che si sono macchiati di pestaggi ai danni di studenti minorenni totalmente inoffensivi che manifestavano a Pisa e in altre città d'Italia. Sono loro che hanno denigrato le forze dell'ordine. Ma allora perché Giorgio Meloni insiste, Marco? Ma perché deve gasare e mobilitare l'elettorato per trascinarlo alle urne senza pensare troppo a chi dovrebbe andare a votare. Già era dura trascinare i sardi a votare per il peggior sindaco di Cagliari della storia e per il peggiore centrodestra rappresentato da questo credibile personaggio che è Solinas. Adesso lei spera che almeno in Abruzzo la gente invece di pensare ai disastri che ha combinato Marsilio che tra l'altro è una specie di pendolare, lavora in smart working perché è romano e prende la macchina tutti i giorni. Diciamo che in questa settimana ci hanno dato diverse spiegazioni di questa cosa del domicilio, la residenza, però la casa Chieti, però insomma siamo stati a lungo su questa questione dell'abitazione di Marsilio. Quindi lei spera che nessuno pensi a Marsilio e che vadano a votare perché ci sono le nuove brigate rosse che vogliono far fuori la polizia. Ma insomma è una barzelletta a cui non crede nessuno. Le vere questioni dell'Abruzzo sono che sette mesi fa avevano tolto dal PNRR il treno Roma-Pescara. Poi se ne sono accorti e l'hanno rifinanziato con la metà dei soldi che non bastano nemmeno a metterci i paracarri in Abruzzo. Figuriamoci a fare una nuova ferrovia. Aspetta che ho Elena Testina.